Il tema corruzione, onorevole D'Amuroso, la Guardia di Finanza ha ripresentato dati allarmanti del nostro Paese per quanto riguarda questo argomento. Come si combatte questa piaga in Italia? Purtroppo va detto che non si combatte solo con i processi e non si combatte solo con un innalzamento delle pene. C'è la necessità avvertita di una diversa maturazione culturale, di un approccio anche nella gestione della cosa pubblica che oggi purtroppo ancora non appartiene alla stragrande maggioranza degli amministratori della cosa pubblica. Per cui proprio in vista di questo rinnovamento sia dei singoli soggetti ma soprattutto dell'approccio culturale, della costruzione, della formazione culturale dei nuovi amministratori è su questo che io credo bisogna insistere. Innalzare le pene può essere davvero un panicello caldo del momento ma non è così che si cambierà il modo di intendere la gestione della cosa pubblica.